Presento la classe quarta CURT dell'Istituto Superiore Leardi di Casale Monferrato. Grazie alle ore di europrogettazione curate dalla dottoressa Di Gatti abbiamo realizzato diversi progetti finalizzati a far conoscere i più importanti valori dell'Unione Europea. Passo la parola alle ragazze che illustreranno alcuni di questi progetti. Se scrivessimo un progetto che tratta della pace e della colleganza, mi sembra fantastico, potremmo avere qualche idea? Sì, potremmo rinforzare ragazzi provenienti dal nord, sud, est e ovest di questa bellissima Europa per vivere un'esperienza nella nostra scuola, per fare atti favori all'idea, per la conoscenza reciproca e per raffrazzare anche le nostre diversità. Questo progetto vuole fare le basi per un futuro migliore per tutti, per dare pace e buona pianta tra i genti. Noi ci crediamo davvero e invitiamo tutti a farlo. Quale idea per questo progetto? Io ho un'idea non certo. Illustracela. Dobbiamo far conoscere a tutti quali sono i valori che ho fai alla base del nostro lavoro. Wow, quali sono questi valori? All'esempio è l'antica. Sì, vogliamo far conoscere il nostro territorio e ragazze stranieri, perché possano apprezzare il patrimonio culturale, artistico e il cibo. Questi valori ci insegnano a rispettarci vicenda. E ci permettono di impartirci insieme. E di diventare vedi cittadini europei. Siamo tutti cittadini europei. E di diventare vedi cittadini europei. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.